Ora vi farò un gioco di magia. Una piccola e singolare mongolfiera con a bordo uno strumento innovativo che, insieme alle attrezzature convenzionali, consente di mettere a fuoco lo stato di salute e il comportamento delle piante, soprattutto in situazioni di stress idrico, determinando il loro fabbisogno in riguo. Questa è la base del progetto PRIN, progetti di rilevante interesse nazionale, che vede la collaborazione di diverse università italiane con il Centro Studi Aerospaziali dell'Ateneo di Padova, che lo ha messo a punto, integrando più discipline. Finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il progetto in Toscana gode del supporto logistico e operativo del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. L'apparecchio, denominato Atemo, pesa due chili e mezzo e può viaggiare su diversi supporti, dotato di un computer di bordo e di telecamere con diversi sistemi ottici e di filtraggio che trasmettono dati in continuo. Dall'analisi si ricavano indici utili per misurare il benessere della pianta, la sua vigoria e lo stress idrico. L'irrigatore si vede dove è già passato, che è più scuro. La finalità del progetto è infatti quella di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua attraverso una gestione differenziata dell'irrigazione. Le osservazioni ripetute nel tempo potranno determinare la quantità ideale d'acqua da fornire alle piante.